Ancora con Putin che oggi ha avuto parole di fuoco, l'abbiamo sentito. Prima ha parlato il presidente ucraino Zelensky, poi ha parlato Putin e ha detto siamo un solo popolo, andremo avanti, i nostri obiettivi militari li stiamo raggiungendo. Tutto questo mentre c'era il secondo round di negoziati, che forse è riuscito ad ottenere un corridoio umanitario con una piccola tregua. C'è una dimensione tattica, è chiaro che se ci sarà un negoziato serio nei prossimi giorni ognuno cerca di arrivarci su un'onda positiva, che vuol dire poi concretamente ulteriori stragi. Ma bisogna considerare che Putin da un punto di vista politico è un cadavere che cammina, cioè non può, a parte che non potrà mai andare più all'estero ovviamente, ma non può immaginare di poter tenere l'Ucraina, ammesso che la voglia conquistare tutta, perché significa esporre la Russia praticamente al dissanguamento. In questa telefonata con Macron, che ha avuto l'altro giorno, anzi ieri, Macron gli ha detto ma tutti i racconti delle storie da solo, eccetera, e lui è andato dritto, ha detto io ho i miei obiettivi, li devo raggiungere fondamentalmente neutralizzazione e smilitarizzazione, ancora cosa più complicata, dell'Ucraina. Il che vuol dire qualcosa di abbastanza improbabile. Da quello che lui sta facendo sul terreno si capisce che sta cercando di sigillare il passaggio dall'Ucraina al Mar Nero, quindi vuole arrivare a Odessa. Se facciamo vedere una cartina lo vediamo, perché oggi è stata conquistata la città di Kherson, e Mariupol è assediata. Esatto, se noi uniamo tutte le fasce arancioni, che è l'obiettivo di Putin, si ottiene la chiusura al mare dell'Ucraina, e quindi evidentemente la conquista di Odessa, e magari anche connettersi con la trasnistria, che è quel pezzo di Moldavia arancione, che i russi controllano dal 1992. Ciò detto, questo dovrebbe far parte di un negoziato, cioè qualcosa vi ridò, o forse vi ridò anche tutto, però voi mi ridate qualcosa. Ma con chi parla in questo momento Putin? Con gli americani? Non lo vogliono sentire, e forse nemmeno lui li vuole sentire. Con Macron, presidente francese. Con Macron, pare che si sia stabilita un'amicizia telefonica, chiamiamola così, che però non mi pare produrre molto. Ma e da un punto di vista militare, la campagna di Putin come sta andando? Non proprio magnificamente, anche perché l'Ucraina è grande, con 190 mila uomini, certo non può immaginare di occuparla. La sua idea, a cui forse non si vede, è che c'è un fiume che taglia a metà, si chiama il Niepre, l'Ucraina, dovrebbe essere di prendersi la parte orientale, esattamente, la riva destra, e poi invece c'è la parte occidentale qui. La questione è, vuole andare a Kiev? E poi non dimentichiamo che in Ucraina ci sono alcune centrali nucleari. Infatti oggi è stato lanciato anche un allarme dall'agenzia atomico. Quindi anche magari per errore può succedere qualcosa di grave. Antonio Padellaro, ma diciamo... Diciamo... Diciamo...